Arrestato un pregiudicato marocchino residente a Pesaro per aver rubato un portafoglio ad un anziano approfittando di un momento di distrazione alla cassa del supermercato di Pesaro mentre pagava il conto. Chiamata la polizia e visionati i filmati delle telecamere, i poliziotti della volante hanno riconosciuto il ladro che era abituale frequentare i giardini di piazza Garibaldi e dove è stato poi rintracciato e arrestato. Essenziale quindi la collaborazione del cittadino e la conoscenza del territorio da parte degli agenti. Attraverso la prevenzione che si garantisce mediante la collaborazione anche della popolazione che vede nel poliziotto sia di volante che di quartiere un punto di riferimento sicuramente riusciremo a perseguire questo obiettivo. Con i soldi trovati ci aveva comprato una birra, ha patteggiato 8 mesi di reclusione e 200 euro di ammenda ed è stato liberato.